I tornei e le amichevoli in preseason servono soprattutto per testare determinati elementi o nuovi innesti nei vari roster, cose che va di pari passo, con la ricerca costante di un'identità e una filosofia di gioco che sono le basi su cui costruire un progetto tecnico condiviso da tutti. Ma nelle memorie al Gianni, che si è disputata nel weekend tra il 1 e il 2 settembre, l'Olimpia Milano ci ha dimostrato di essere di un altro pianeta e non solo sulla carta con un roster mostruoso per i canoni del nostro campionato, ma anche sul campo doveva praticamente anniclito Varese in finale, dopo che le due formazioni lombarde si erano sbarazzate il giorno prima di Biella e Casale. Doveva essere un test per vedere all'opera i nuovi acquisti meneghini, soprattutto James e Brooks, con Nedovic impegnato in nazionale e la guardia di USA non si è fatta attendere dispensando pallacanestro di qualità durante tutto l'arco della gara. I ragazzi di coach pianigiani hanno dimostrato che se difendono con grande intensità e fisicità per l'avversario è nottefonda, con transizioni che hanno portato tiri aperti dal campo, dove Kuzmiskas, con percentuali altissime, ha letteralmente fatto a fette la difesa paresina. E sembra proprio questa la strada intrapresa da pianigiani e il suo staff, ossia una difesa ancora più pressante e fisica e fatta con maggior continuità rispetto allo scorso anno, elemento che potrebbe far scatenare quelle transizioni primarie che erano il marcio di fabbrica nelle sue stagioni a Siena. Per dovere di cronaca il risultato finale è quasi imbarazzante a favore dei meneghini, 106 a 72, tenendo conto che ieri non hanno messo piedi in campo pezzi da novanta come Nedovic, Gudaitis e Bans e solo questo lascia già capire che tipo di stagione sarà almeno a livello nazionale, dove per le altre allo stato attuale rimangono solo le briciole.